Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che è prevista neve sul tratto appenninico della 1, mentre sta piovendo in A12 tra Pisa Centro e Bivio A12 di Ramazione Rivorno. La mobilità in A11 code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Pistoia e il Bivio con la 1 tutto verso Firenze, in Fipelicode a tratti per viabilità esterna che non riceve, verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Direzione Rivorno, 2 km di coda per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, provenendo da Firenze inoltre coda in uscita a Scandicci per viabilità esterna che non riceve. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramviari per la tratta Fortezza Libertà San Marco. Da questa sera cambia l'assetto del cantiere in Piazza della Libertà lato parterre. In settimana in programma anche lo scarico e la posa di binari in Viale Lavagnini, dove verranno anche rimossi parti dei New Jersey, sostituiti con recensioni più leggere e tutti i dettagli sui nostri canali social. Può versi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!